Sindaco, ci siamo, il Francavilla è prossimo al ripescaggio in Serie D con una nuova proprietà per poter ripartire, per poter affrontare un campionato che mancava nella storia del Francavilla da tanti anni. Era il 95-96 l'ultima volta che il Francavilla è in Serie D ma veniva da una serie di retrocessioni. In verità l'ultima volta che questa città ha avuto la prima squadra in Serie D è stato l'anno 1976, quindi questo appuntamento manca da 41 anni. Io considero già la squadra ripescata perché è uscita la classifica definitiva che ci vede terzi, sono già più di 5 le squadre non iscritte in Serie D, quindi il ripescaggio ormai è cosa ufficiale. Ma la vera bella notizia è l'arrivo del presidente, l'ingegnere Gilberto Candeloro con il vicepresidente Giacomo Ortolano che promettono un futuro splendido a questa città dal punto di vista calcistico e questa cosa mi riempie d'orgoglio e di gioia. Fatemi anche ringraziare il presidente uscente Fabio De Vincenzi che comunque ha lasciato una società solida, senza debiti, ripescata appunto in Serie D e quindi anche a lui va un plauso. Sono state settimane intense perché c'è stata anche incertezza, però lei aveva garantito che i fronti erano diversi. Alla fine quasi all'improvviso è sboccato questo imprenditore che era stato accostato in passato anche a Lanciano. In verità per me non è quasi all'improvviso, alla stampa, al pubblico sì è quasi all'improvviso. C'è stato un lavorio continuo, ho dovuto occuparmi di questa vicenda dal primo giorno, l'ho fatto minuto dopo minuto per fare in modo che il Francavilla passasse in buone mani. Erano tante le persone interessate, ma abbiamo dato priorità alla solidità, alla serietà e quindi aver trovato ora questa nuova società mi riempie di gioia e d'orgoglio.